ossa e la tua, il suo vettore è il suo vettore vabbè senti Poma? in teoria, in teoria qua il ragazzo ti deve dare il cambio per il suo appassio il ragazzo ti deve dare il cambio per il suo appassio e tu me ne rispondi a stare con l'altro che facciamo? viene da artesanbio? non faccio il promisore la pura di fronte la pura di fronte guardalo, buona di da sei e la pura di da sei ma il ragazzo ti deve dare all' тебя che facciamo gli uccivili guardalo, i fiduciosi guardalo, i fai guardalo, guardalo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.